Perché ricordo che ogni giorno che passa, oltre al fatto che comunque l'intervento prosegue e quindi viene dato corso al progetto, quindi alla modifica dell'ambiente, però ogni giorno che passa c'è anche il rischio di dover poi aumentare i costi in un'eventuale ipotesi di recensione del contratto. Quindi è assolutamente urgente verificare la possibilità tecnico-giuridica di sospendere questo lavoro, noi chiediamo la possibilità di poterlo fare tempestivamente, quindi una richiesta che faccio anche se quindi oggi non possiamo procedere a una delivare indirizzo da parte del Consiglio Comunicato Comunicato, così come io ve l'ho proposto, però ci chiedo a sottolineare che intanto questa azione potrebbe, diciamo così, garantire a tutta la nostra comunità, parlo delle due comunità di Itagia e Salega, ma anche tutta la comunità commerciale, di garantire di non dover aumentare i costi nel caso di cui si possa decidere per un'alternativa.